ok allora buonasera a tutti buonasera a tutti i partecipanti grazie di essere stati così numerosi soprattutto una bellissima notizia sapere che ci sono tantissimi non soci di conseguenza sperano e speriamo tutti che sia una primo avvicinamento a questa grande famiglia che la ig questo è uno dei nostri webinar sicuramente un webinar con una super ospite è un webinar che anche una componente commerciale di conseguenza abbiamo uno dei nostri pilastri che gestirà il moderatore sarà il dottore eugenio tanteri che per i nostri soci non ha bisogno di presentazione essendo socio fondatore pass presito in più volte per i non soci e invece è una colonna portante della ig anche dei ruoli fondamentali non solo come probiviro ma come partecipante a tutte le attività della ig per quello che riguarda anche le commissioni e stasera sarà il moderatore mi è stato indicato che sarà circa un'ora la presentazione a cui seguiranno delle domande appunto gestite dal dottor tanteri questa formula del webinar è uno delle varie possibilità che avete di interagire con la ig la migliore è farvi soci e iniziare a frequentare l'associazione ovviamente però adesso da remoto sicuramente queste formule funzionano la ig a varie componenti a varie gruppi di studio che sono confluiti nel formare una ig ancora più grossa e di conseguenza il gruppo di torino sicuramente il gruppo cardine in cui sono confluiti dei nuovi soci ma sicuramente sono rimasti tutto il gruppo ancorato a un certo tipo di registrazione di filosofia senza niente togliere agli altri sicuramente il gruppo principale che porta avanti le istanze della ig io non ho molto altro da aggiungere perché con un moderatore tale e un relatore tale siete tutti collegati sicuramente avrete qualcosa da sentire ed imparare su un tema che è sempre un topic molto caldo perché il bruxismo è ogni giorno in evoluzione di conseguenza lascio la parola ad eugenio e grazie a tutti buona serata grazie presidente buonasera a tutti è un grande piacere introdurre il professor grego slavicec è un grande piacere per tanti motivi primo perché siamo molto legati alla famiglia slavice che poi con gregor abbiamo intrecciato veramente una situazione dal punto di vista della informazione della formazione professionale non indifferente l'argomento che il professor slavicec questa sera ci ci introdurrà e che praticamente ci darà delle indicazioni non molto importanti ha sicuramente sia un supporto commerciale ma la cosa più importante che il bruxismo e quando parliamo di bruxismo a volte non sappiamo esattamente di che cosa parliamo perché talmente tali sono le sfaccettature che forse un po' di chiarezza sull'argomento sicuramente non ci farà male io non voglio dilungarmi molto su quello che praticamente è il bruxismo avremo questa sera la possibilità di ascoltare uno dei maggiori esperti in questo in questo in questo in questo su questo argomento e non mancheranno sicuramente elementi di analisi di discussione tutti quanti siete invitati a partecipare formando poi dopo formulando le domande che più riterrete opportune quindi rinnovando l'immesso piacere che così provano a presentare l'amico e gregor slavice gli lascio la parola e vi auguro un buon ascolto e che la serata sia proficua per tutti quanti gregor to you thank you very much thank you francesco thank you eugenio for this introduction and thank you to julia to be translating today again so today's topic is praxism it's an important topic to my opinion and what we have developed is a new approach to understand the practice checker from professor sato a little bit better l'argomento di questa sera il bruxismo è un argomento importante secondo il professore quello di cui si parlerà è lo sviluppo di un approccio soprattutto basato sulla lettura del brux checker sviluppato dal professor sato quindi la mia presentazione di questa sera divisa in tre sezioni e il primo punto è il bruxismo e ci occuperemo di parlare del fatto della domanda se il se all'interno del dell'argomento bruxismo c'è stato c'è uno shift nel paradigma so when we look to the literature bruxisman is included in the closer closer of prosthetic terms since 1940 there is no change until 2017 it is defined as a para functional grinding of teeth quando noi andiamo ci occupiamo adesso allora del primo punto quando andiamo a esaminare la letteratura esistente e andiamo a vedere la definizione di bruxismo intanto ci rendiamo conto che è definito così dal glossario dei termini prosto protesici prostodontici degli anni ed è invariato gli anni 40 vedete sotto la reference del 56 è rimasta così come la vedete fino al 2017 non è cambiata ed è definita come il digregnamento parafunzionale dei denti quindi sei una parafunzione vuol dire che qualcosa di non funzionale ma ricordatevi è ancora definito così all'interno del glossario in the sleep medicine it is a motor sleep disorder invece nel costaniamo a vedere le definizioni della medicina del sonno lo troviamo come un disturbo motorio del sonno il bruxismo in the orofacial pain guidelines is it is again a para function but still here it is already divided in a daytime power function and a nighttime power function which should be changed to awake and sleep function se poi ancora andiamo a esaminare il glossario del del dolor orofacial andiamo a vedere come il bruxismo si è definito sì come un'attività parafunzionale ma è stato suddiviso in bruxismo diurno e bruxismo notturno e adesso forse vorremmo dire bruxismo in veglia e bruxismo durante il sonno se andiamo a vedere il bruxismo e in generale le funzioni di gestione dello stress del sistema stomatognatico so when the stomatognatic system is used during stress we have less stress related um situations in the body cosa succede che all'aumentare delle funzioni che ci permettono di gestire lo stress abbiamo un una diminuzione di quelle condizioni legate al patologicamente alla gestione dello stress and when we see and compare this with chewing we find similarities e se andiamo a paragonare tutto questo a fare un confronto con la masticazione andiamo a vedere che ci sono effettivamente tante cose simili per esempio andiamo a vedere il fatto di masticare e avere un alimentazione basata sulla dieta morbida questo vuol dire in termini sensoriali un minor input sensoriale e questo ci conduce a avere una minor capacità di orientarsi nello spazio ora sembra che il collegamento tra il sistema stomatognatico e il cervello e il sistema nervoso centrale abbia proprio a che fare con i muscoli masticatori e la loro funzione in questi studi che vi ho citato vedete che hanno studiato dei topi e ad alcuni è stata fornita una dieta morbida e ad altre una dieta con cibi solidi e si è andata a vedere la loro diminuzione di memoria spaziale a 360 giorni and we can see alterations in the brain e anche sono studiate le alterazioni relative nel loro encefalo se andiamo a vedere invece tutto quello che è lo status intraorale e per esempio le correlazioni con la demenza andiamo a vedere come abbia questo a che fare con la masticazione scusami d'otto sorry I missed the last word I'm very sorry quindi la riduzione nella qualità dell'occlusione aumenta il rischio di demenza e questo è stato pubblicato lo vedete qui citato con uno studio di 22 anni di follow up e questo studio è stato pubblicato nel 2020 and the link between the reduced occlusion and the decline in the cognitive function is masticatory ability so the activity of chewing muscles quindi il collegamento tra la ridotta qualità dell'occlusione e l'aumentato declino o meglio il declino in generale delle funzioni cognitive sta proprio nell'abilità masticatoria e nella capacità di funzionare dei muscoli masticatori per esempio se andiamo a vedere come è stato studiato il bruxismo in studi con modelli animali vedremo che per esempio qui dei topi hanno un'aumentata attività muscolare in caso di stress a livello dei masseteri that means when we link this information with the principles of the occlusal medicine theory of professor Sato that when we are stressed we increase masseter activity chewing muscle activity and we have a positive effect se colleghiamo questi ritrovati con i principi della medicina occlusale posturata dal professor Sato vediamo che anche noi in presenza di stress aumentiamo la nostra attività muscolare e stiamo meglio quello che sappiamo è che lo stress emotivo quello di cui ci occupiamo adesso non è come nell'immagine che avete visto prima in cui c'era uno stress importante fisico quando avete visto la foto dei topini fissati alla tavoletta di legno allora in questo genere di pazienti qual sarà la nostra terapia di tipo occlusale dobbiamo fare chiarezza in queste prossime diapositive riguardo a ciò di cui stiamo veramente parlando quindi la domanda diciamo è questa dovremmo agire a livello dell'occlusione per curare il bruxismo per trattare il bruxismo oppure dovremmo agire per curare o gestire dei disordini temporomandibolari ricordiamoci una cosa che mettere mano all'occlusione, cambiare l'occlusione è la quotidianità professionale di un dentista è quello che un dentista nel suo studio fa tutti i giorni e quindi se leggiamo in letteratura magari quelle raccomandazioni che ci invitano a non toccare l'occlusione non eseguire modifiche occlusali per trattare il bruxismo allora la prima domanda che dovremmo porci che dobbiamo un attimo affrontare è il bruxismo è un qualcosa che va fermato in qualche modo o è questa una delle funzioni occlusali che ha un qualche beneficio, un effetto benefico sui nostri pazienti la seconda domanda è in quale punto all'interno della nostra strategia terapeutica, all'interno del nostro percorso terapeutico dovremmo occuparci di cambiare l'occlusione quindi questa è la seconda citazione che ho messo in questo slide qui da De Boeber, da Carlsen, da Kleinberg sono dei nomi ben conosciuti in questo punto e dicono che non ha indicato prostodontico se non abbiamo mostrato con trattamento reversibile che la dolore e la disfunzione possono essere eliminati e questa è la seconda citazione che ho inserito qua del gruppo di De Boeber, Carlsen e Kleinberg e anche loro dicono come potete leggere che nessuna indicazione protesica sarebbe da dare in caso non si fosse dimostrato con un percorso di pariaterapia reversibile che c'è un beneficio su dolore e disfunzione quindi prima di tutto dovremmo trattare il disordine temporomandibolare e qualora non fossimo in grado di modificare il corteosintomatologico loro non dovremmo fare alcuna modifica occlusale quindi qui non sto dicendo dovremmo trattare l'occlusione sì o no sto dicendo quando, in quale punto dovremmo farlo e ancora, che cos'è il bruxismo? è una funzione regolare o è una parafunzione? è una funzione non funzionale? ed è quello che cerco sempre di riassumere in questa grande slide che vedete quindi all'inizio ci deve essere una convergenza della fase diagnostica quindi con un'analisi sistematica che ci porta alla convergenza e poi dobbiamo essere certi che l'occlusione sia coinvolta e se la risposta è sì e l'occlusione è coinvolta allora possiamo pianificare una strategia di trattamento che abbia a che fare col nostro lavoro, col nostro punto di vista e solo allora si decide qual è la terapia migliore per quel tipo di paziente quindi la terapia non è quella che deve influenzare la nostra strategia perché è la parte diagnostica che influenzerà la nostra strategia di trattamento quindi è questo un cambio, uno shift nel paradigma? ma sì, lo è Frank Labelsu, with his colleagues published an international consensus on the assessment of bruxism this is a work in progress published in 2018 vedete questa pubblicazione del 2018 è un work in progress in realtà del gruppo di Labelsu ed è un consensus internazionale sulla valutazione del bruxismo e non è più considerata una parafunzione ha assunto invece un significato più ampio e più positivo se vogliamo non è più un disordine del movimento basandoci su quello che è sul paper che vi ho appena citato questi autori dividono il bruxismo in possibile, probabile e confermato è possibile se è semplicemente il paziente a riferirci di bruxare di giorno o di notte probabile qualora ci siano dei segni indiretti di quella funzione e all'interno di questo manoscritto non lo dico io si dice che il bruxismo diurno o notturno è confermato quando è verificato da un'analisi strumentale ok, l'analisi strumentale può essere definita in una differente modo l'elettromiografia, il sleep lab, la condilografia, l'articulatore è una storia differente ma gli strumenti sono necessari per confermare il bruxismo ora dire analisi strumentale è un qualcosa di molto ampio perché strumenti ce ne sono diversi può trattarsi di elettromiografia delle procedure che si fanno nella medicina del sonno anche l'articolatore è uno strumento volendo e il secondo paradigma di shift based on this work in progress international consensus group is that we have not to confirm the probabile praxism by the self-report or the self-report or the by the clinical inspection sorry, it was a little bit confusing maybe so the probable bruxism has not been necessary confirmed by the self-report quindi quello che dice il professore è che il secondo shift di paradigma quando si parla di di bruxismo interessa proprio questa questa slide qua cioè che qualora si tratti di bruxismo probabile non è necessario che il probabile venga confermato dalla percezione soggettiva del paziente e anche il bruxismo che va sotto la colonna del confermato non per forza deve essere confermato dalla percezione soggettiva o dall'operatore ok for me that's a big paradigm shift because the self-reported the questionnaire the anamnestic data usually overruled in many approaches the instrumental analysis here we can see it's a new approach questo è nuovo perché in altri approcci l'autodiagnosi a volte era più importante delle altre delle altre modi di sospettare la diagnosi invece questo è un approccio nuovo and in this paper it's also indicated that we have three classifications of praxism one is the harmless praxism one is a risk factor and for me very interesting and confirming what I learned from my big teachers professor Sato and professor Slavicek a protection of praxism a factor to protect something è sempre qui all'interno di questo lavoro in altri tre modi sono stati classificati in altri tre modi è stato classificato il bruxismo dal punto di vista clinico il primo che vedete è quello non dannoso il bruxismo non dannoso poi il bruxismo come fattore di rischio e poi come fattore di protezione questo conferma gli insegnamenti che ho ricevuto dal professor Slavicek e dal professor Sato in cui il bruxismo è in qualche modo una protezione per qualcos'altro a risk factor is something is destroyed in the mouth even my crown or my veneer or symptoms cosa vuol dire fattore di rischio vuol dire che io ho qualche danno all'interno del mio cavo orale come per esempio una corona che si è che si è fratturata oppure un sintomo di tipo cranio-mandibolare invece tra fattore di protezione abbiamo degli effetti positivi per esempio il cessare l'apnea oppure l'incrementare la produzione di saliva o tutte quelle fine regolazioni nell'equilibrio ormonale come quelle che si hanno durante l'attività fisica quindi ancora valutando parlando di bruxismo dobbiamo dirci è ancora una parafunzione o una funzione fisiologica quindi se la consideriamo una parafunzione perché avviene quali sono le ragioni quali sono i trigger i grilletti e ancora se invece è fisiologica ancora perché perché la è una funzione è un qualche cosa che facciamo che eseguiamo e dal punto di vista terapeutico se è una parafunzione che cosa succede se avviene questa parafunzione e se invece è una funzione fisiologica che cosa succede se questa funzione fisiologica non viene espletata e Seligman e Pullinger big names in our field published already in 1991 it seems that parafunction appears to be universal so everybody has it all everywhere is this parafunction e già nel 91 per esempio quindi diverso tempo fa il gruppo di Seligman e Pullinger hanno detto questo cioè che le parafunzioni la parafunzione sembra qualcosa di universale che interessa a tutti che c'è ovunque so when we consider praxism as physiological function we have to optimize occlusion including with restorative prosthetic measures and we have to eliminate CMD symptoms before this irreversible therapeutical measures quindi se consideriamo il bruxismo come una funzione fisiologica dobbiamo prima di tutto ottimizzare l'occlusione questo comprende delle manovre di tipo protesico ma soprattutto aver già eliminato prima delle manovre irreversibili tutti quelli che sono i sintomi e io sono perfettamente aderente a questo concetto quindi se invece è una parafunzione e quindi io voglio evitarla in letteratura noi leggiamo queste come le P multiple quindi le iniziali che corrispondono a diverse parole che sono il colloquio la psicologia le compresse le pills e il professore si scusa per potox per il gioco di parole con botox è sempre letteratura si parla del trattamento di queste parafunzioni indicato come solo per mezzo di trattamenti che sono reversibili e in questi lavori si parla di protesi in pazienti adulti basandosi semplicemente sul buonsenso e questo dire buonsenso nella letteratura è estremamente pericoloso intanto perché non è un concetto non esiste il concetto del buonsenso non si può definire e soprattutto perché il carico anche dal punto di vista della medicina difensiva della medicina legale è tutto sul singolo operatore io sono perfettamente nell'idea della necessità dell'odontiotria basata sull'evidenza assolutamente con l'evidenza quello che però dobbiamo quello che dobbiamo fare sempre conti però è che in letteratura semplicemente non c'è abbastanza evidenza scientifica e questo non ci può far dire che l'occlusione non va trattata possiamo esaminare 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 letteratura e arriveranno sempre a questa conclusione che non ce n'è a sufficienza di studi condotti e poi tra le conclusioni tra le raccomandazioni magari leggiamo anche che l'eccezione la fanno i dispositivi grazie i dispositivi occlusali e quindi che cos'è questo un sinonimo di se puoi usare il dispositivo allora usa l'occlusione la stessa cosa è un sinonimo per il professore usa l'occlusione e io sono un grande fan delle placche occlusali tuttavia lo vedo come un qualche cosa a ponte qualcosa di temporaneo che poi ci porta al restauro finale ed è per questo che mi arrabbia a volte mi arrabbio se leggo in una revisione come quello che vedete qua è la fine di un'era io mi batterò affinché questo non sia non sia vero ma che sia non la fine di un'era bensì l'inizio di una nuova era ovvero l'occlusione e non posso che di sentire se leggo che gli odontoiatri sono incoraggiati quindi a andare avanti e abbandonare il vecchio concetto di paradigma magnetologico questo è già un passo fatto in più nel mio campo e io combatterò per questo e quindi bisognerebbe forse incoraggiare i colleghi a gestire l'occlusione perché è proprio il loro campo di azione non invece renderli frustrati ok so even in this publication when we check how many odds are there between the occlusal findings and temporomandibular disorders even in his publication of course this is not a causal relation this is odds ratio it quantifies the strength of a relationship e anche se andiamo a vedere proprio questo lavoro che vi ho appena fatto che vi ho appena proiettato e andiamo a vedere la statistica e la correlazione che c'è e il suo lavoro e badate bene tra ritrovati a carico dell'occlusione e disordini temporomandibolari gli odds ratio non ci dicono proprio questa cosa qua e badate bene ancora gli odds ratio non indicano una relazione causale ma la forza dell'associazione della correlazione tra due eventi and if I see an odds ratio for intracapsular temporomandibular disorder raised by almost 12 12 times higher than somebody with a non crossbite situation I would say it's not causal but it's a clear correlation and this is for me enough to start and to think about the therapy e quindi se guardate per esempio la riga che ha indicato il professore in cui si indica il crossbite monolaterale andiamo a vedere l'odds ratio con il disordine intracapsulare un odds ratio di quasi 12 per farle in parole molto semplici vuol dire che il rischio di presentare questa condizione è di 12 volte più alto e quindi non è chiaramente una relazione causale non ha questo significato ma per me è già più che sufficiente per iniziare a ragionare dal punto di vista terapeutico perché l'associazione c'è and if what has changed I just want to understand what has changed that we started with instrumentation we started with occlusion we have a lot of brilliant teachers who explained to us why and how what has changed to this selected occlusal caratteristice with selected signs and symptoms and with this conclusion is not a cause for TMD what has changed here e quindi quando guardo l'evoluzione della cosa mi chiedo che cosa è cambiato nel tempo abbiamo avuto strumenti abbiamo avuto occlusione abbiamo avuto maestri che ci hanno insegnato cosa ci ha fatto cosa è cambiato che cosa si è modificato che ci ha fatto a raggiungere la conclusione che non c'è che l'occlusione non c'entra nulla and for me the main difference is all these big names in Knatology had a model a disease model or a causal relationship model which they based on the fundament of their thoughts and it's still something like centric relation centric occlusion we have occlusal factors we have a proprioception from occlusion we have a proprioception from the joint we have a central nervous system which is now in imbalance between these two informations we have stress we have muscular hyperactivity in coordination and we have the apparent occlusal function this is a theoretical module which fits questo che faccio vedere è un modello teorico che ha senso tutti questi nomini che vi dicevo prima che sono occlusione centrica relazione centrica che sono a loro volta che dipendono da fattori occlusali le due posizioni che non sono coincidenti tutto questo con effetti sul sistema nervoso centrale lo stress che interviene per attività muscolare tutto questo ha senso all'interno di questo schema era un modello teorico che l'operatore comprendeva sapeva capire le cose che non andavano e now today we have linear correlations we try to find out is there a linear correlation between a midline discrepancy and an internal arrangement and something like this invece adesso ragioniamo più in termini di correlazioni lineari per esempio c'è uno shift delle mediane e questo è correlato con gli internal derangement ed è sempre una correlazione uno uno lineare quello che invece facciamo è focalizzarci su queste correlazioni lineari e ignorare quello che sapevamo cioè le predisposizioni dei singoli individui e la capacità di adattamento e lo che mi piacciono è che anche la paper che c'è cita prima che dice occlusion ha nothing a do con TMD è cita in a different way quando you looked at the data for example this study from Finland it 2019 published of a cohort study starting 1966 they said from this paper we can say occlusion is correlated to TMD e la cosa che fa ridere il professore è che il lavoro che avete visto citato fino adesso in cui si dice l'occlusione e i disordini temporomandibolari non c'entrano nulla con l'altro viene citato da un altro gruppo di ricercatori ma usando sostanzialmente i risultati traendo conclusioni diverse il lavoro di cui parla il professore è questo lavoro pubblicato da Craio nel 2019 di una corte molto lunga degli anni 60 a oggi usando quindi i dati dell'altro lavoro loro dicono che c'è una correlazione tra occlusione e disordini temporomandibolari quindi è davvero la fine di un'era non penso proprio non è la fine di un'era nel 2024 festeggeremo i cento anni dell'agnatologia e io penso che sarà l'inizio della nuova negatologia quella che io chiamo la 4.0 ok so this is what we discussed and we can see this when we check our patients and Julia can explain this patient much better than me this is her patient so we can see the centric occlusal concept when we check this occlusion and try to find out is this correlated with the dysfunction it's a completely difference story then if we check the CR you forgot to translate this is your patient I have to always listen what you are translating so we have a proprioceptive conflict as a basic problem here which is stated by my teachers most some of them were my teachers as well and here we have a young girl 25 years post orthodontic with this occlusion asymmetric occlusion inclined upper teeth posterior interference and look how the stomato oknotic system these occlusal functions have to react so without instruments no chance to detect this no chance so back to bruxism as we know bruxism is dangerous if you start if the mandible start to rotate and sadao sato says if the rotation is more than five to six degrees with this oblique axis then it gets dangerous i agree with that and and we have We have also other instruments which are more difficult to handle but easy to understand. Per me vedere il Brooks checker come avete visto nella slide precedente a volte è difficile. Con altri strumenti questa attività si può vedere in maniera un pochettino più di facile comprensione. Vedete per esempio il bruxismo sovrapposto al poligono di Posselt, vedete la funzione sovrapposta in condilografia, vedete gli effetti sui tracetti condilografici delle interferenze posteriori. Quindi una volta che abbiamo detto di questi strumenti torniamo un attimo all'analisi del bruxismo. So when we have the bruxi checker, for me it is very difficult to get an individual bruxi checker in one of these categories. This is definitely not a critic on Sadao, Sato and his co-workers but I believe I'm quite good to understand occlusion but on the brux checker with this dynamics I have difficulties to define one of these six categories. Per il professore è piuttosto difficile, per conoscere l'occlusione, quando valuta un brux checker singolo, farlo cadere in una di queste categorie che sono state descritte. Non è una critica chiaramente, professor Sato e i suoi collaboratori, è semplicemente difficile trovare veramente il fit perfetto con una categoria. Per esempio per me è difficile comprendere, come vedete qua nelle slide, nelle immagini sulla destra, se un pattern è puramente mediotrusivo ma c'è anche della protrusione, è sempre difficile. Perché si ha a che fare col posizionamento della mandibola, quindi magari la mandibola compie uno spostamento in senso laterale, per esempio, e poi in quella posizione laterale fa delle ulteriori mediotrusioni o delle protrusioni. Quindi è difficile capire la posizione della mandibola per me. Ma ciò che vogliamo capire è che le parti del brux checker sono usate. È più anteriore, più posteriore, è simmetrico, è asimmetrico. Queste sono le informazioni importanti da un brux checker. Ma le cose importanti da ricavare da un brux checker sono in realtà un pochettino diverse, cioè il pattern di bruxismo è molto anteriore, è solo sui denti posteriori, è simmetrico e è asimmetrico. Sono queste in realtà le cose da andare a guardare. Inoltre può essere un pochettino complicato anche maneggiare proprio il foglio stampato del brux checker, perché anche poi visualizzarlo dopo vedere le abrasioni. È sempre necessario evidenziare le zone dove il colore è venuto via, quindi può essere complicato. Ecco perché abbiamo aggiunto la lettura del brux checker alle nostre analisi. Quindi proprio basandoci anche sulla letteratura abbiamo deciso di creare queste quattro piastre per analisi delle funzioni masticatorie tra cui il brux checker. Per il brux checker ne abbiamo fatte una per la veglia e una per la notte, sia per l'arcata superiore che l'inferiore. Quindi bisogna mettere questo brux checker sul brux checker, che ha alcuni marker orientazioni. Facciamo solo una foto, come dal test di cuore, con la stessa piastra, con la stessa piastra, con la stessa piastra, con la stessa piastra, con la stessa piastra. Quello che si fa è utilizzare la stessa box del test di masticazione, la stessa piastra, con la stessa piastra dedicata, che ha dei piccoli reperi dove si può posizionare e orientare il brux checker e poi inserirlo per l'autolettura. In order to highlight it better, we have developed a very light silicone fast setting flow to stabilize the brux checker first of all and then to have more contrast. E poi quello che è stato sviluppato dal professore e dal suo gruppo è questo, un silicone fast setting fluido e leggero, che riempiendo la parte concava del brux checker, riesce sia a stabilizzarlo come forma e come maneggevolezza, insomma, ma anche fornire quel contrasto necessario per la lettura, perché evidenzia le abrasioni. E come per le altre parti dei sistemi di refertazione digitale, si riesce a ottenere un report, un referto nel nostro studio con tutte le dati numerici e analisi. Vediamo allora adesso gli elementi cardine di quest'analisi. So, first of all, this is the original photo which you fabricated in the clinic. Intanto questa, per esempio, è la famosa foto che ci fornisce l'operatore ed è quella che si ottiene inserendo tutto nella macchina del chewing box. La versione italiana è vicina, quindi mi scuso se vedete ancora i nomi in tedesco. Ecco quello che ottenete, quindi delle analisi numeriche, dei dati numerici. Quello che ottenete, comunque, è il numero di abrasioni, di facette di abrasione sul Brooks Checker, l'area in millimetri quadri e il rapporto, quindi delle percentuali. E avete tutte queste cose qua anche suddivise per il totale, per il posteriore, per i laterali, per l'anteriore, eccetera, eccetera. Per tutti i segmentini avete i dati scomposti. La stessa cosa è anche tradotta in analisi verbale, così anche il paziente ha modo di vedere cosa che sta succedendo. Poi, un'ulteriore analisi è fotografica con una sovrapposizione in codici colore, così si riesce a vedere all'interno di una stessa arcata quali sono le aree più interessate dalle abrasioni. E poi avete ancora un'altra visualizzazione che è sempre per... ...segmenti vi indica il numero di abrasioni. Per esempio, un cerchio più grande, una circonferenza più grande nel segmento anteriore, ci indica che in quella zona sono presenti maggiori abrasioni. E poi ci sono grafici a barre per indicarci le differenze tra lato destro e lato sinistro, per esempio. E capite che se la differenza tra lato destro e lato sinistro è due a dieci, capite che c'è un qualche cosa che sta capitando a livello mandibolare che fa questo genere di funzione. O qui, un'ulteriore clinico di un collega qui in Stuttgart, molto simmetrico. Questo è un caso di un collega qui in Stuttgart, è un caso reale. Vedete che qui sia i grafici che la fotografia con codice colore ci indicano che questa attività è simmetrica, è molto simile tra lato destro e lato sinistro. Le aree sono piccole, quasi tutte uguali e simmetricamente distribuite. Anterior, intermedi, posterior. Quindi puoi dire che questo è il gruppo frontale, questi sono i premolari e i molari. Non completamente indicati, ma le differenze anteriore e posteriori che sono mostrata qui. Ancora questi grafici ci indicano le differenze tra le porzioni anteriori e le porzioni intermedie e quelle più posteriori. Quindi per avere un'idea della distribuzione, anche in questo senso. E quello che invece vogliamo vedere, per esempio, è una distribuzione minore nei segmenti anteriori e maggiore dietro. E qui avete anche i numeri delle porzioni intermedie. Qui, aggiunte alle classificazioni in senso sagittale, avete anche di nuovo destra e sinistra insieme in aggiunto. Quindi destra versus sinistra. Quindi destra, anteriore, intermedia e posteriore e lo stesso per il lato sinistro. Poi dal numero puro invece andiamo a vedere l'area di queste faccette di abrasione. Espresso in millimetri quadri in questo boxplot. E per scopi stori scientifici è anche un histogramma. And when you read your report, you can see, for example, here on the right-hand side, the number of abrasion facets anteriori, intermediary, and posteriori. Vedete qui, per esempio, che all'interno di una stessa colonna abbiamo anteriori destra e sinistra. Anteriore, intermedia e posteriore. Here on the right-hand side, on the screen. Sulla destra dello schermo, perdonatevi. One time. But the same on the left-hand side now, the same with the square millimetre here, shows anteriori, they are quite big. Però se andiamo a vedere l'area, quindi i grafici che ci esprimono l'area in millimetri quadri, vediamo che è un'area molto più grande in realtà. So we have large areas, but small number of abrasion facets. Here is a number missing, sorry. Quindi è piccolo il numero, ma l'area è grande. Che chiaramente non ci suggerisce una buona situazione. And here the reverse. These are real patients of our pre-studies already. Questo è l'opposto, sono pazienti reali dei nostri studi preliminari. Anteriori overloaded, but quite small abrasion facets. Sorry, there's some missing. Okay, you understood. E questo è l'opposto, quindi vediamo che il numero è questo, però le aree sono piccole. Yeah, for example here. This is also a real Brooks checker after prosthetic rehabilitation, also from Dr. Becker here in Stuttgart. Sempre da stoccare da Dr. Becker. Questo è un Brooks checker di controllo fatto dopo una rehabilitazione protesica. Vedete che c'è una grande abrasione in regione canina ed è quella indicata in quella zona del grafico ad area. Ed è proprio questa caratteristica sul canino che può suggerire il problema della rotazione mandibualare che dicevamo prima. E quindi dovremmo vedere di trattare questa cosa e vedere un decremento dell'area dell'abrasione dall'alto verso il basso. So we have also these scale diagrams for all facets here, about 14 or 15 with quite a small number and a small percentage of the total Brooks checker here. E vedete adesso una visione di insieme in questo del numero che è 14, 15 di faccete di abrasione e anche il rapporto. Then we have it for the side. Diviso sia per lato. When you check here, right and left. E per controllare vedete che RL, destra e sinistra sono simili, sono posizionati in modo simile. Right plus left should be 100, of course. Chiaramente essendo questo un rapporto, destra e sinistra dovrebbe essere il 100%. So this tells you quite symmetric, first of all. Si dice che intanto è una condizione simmetrica prima di tutto. Yeah, from the percentage. But right more than left, but the area is also similar. L'area è abbastanza sovrapponibile, ma il numero di particelle, di abrasioni è maggiore per il lato destro. And finally we have the scale diagram, for example for this real RUX checker. And we can see posterior and intermediary, so molars and premolar, only one premolar here, are more than anterior. So this is quite, for me, quite a relaxed situation. Qui vedete sempre una situazione, un caso reale, che a mio avviso è una situazione tranquilla, in cui il grafico che questa volta invece ci suddivide le faccette in anteriori, intermedie e posteriori, abbiamo un rapporto maggiore a favore di intermedie e posteriori rispetto all'anteriore, che è quello che vorremmo più o meno vedere. Però il BRUX checker è uno dei pezzettini del puzzle completo. And then overview is presented like this. You have an overview about the BRUX checker with anterior, intermediate, posterior segments, left and right side, total, left and right here. So this is how it looks. Avete poi ancora una visione di insieme di questo tipo, quindi con la fotografia e i dati sovrapposti, in cui avete le sezioni anteriore, intermedie e posteriori, i lati, destro e sinistro e il totale. Yeah. And we are working on that. We are working on this functional implication graphic, this axis, to find out if we can find an algorithm that tells us now where are these rotational axis in these functional movements. Adesso quello che stiamo facendo è lavorare su quello che avete già visto, ma soprattutto lavorare sulle implicazioni funzionali di tutto questo, perché dal BRUX checker stesso riusciamo a ricavare questi assi che vedete tracciati e avere delle informazioni, quello che desidereremo, avere delle informazioni su questo movimento indesiderato rotazionale della mandibola. And this was my last slide. If you need more information, there is a lot of our Italian website already. You can read a lot about the functionality, about BRUX and so on, and it will be updated on a regular basis. Quello che volete trovare in più lo trovate senza difficoltà sul nostro sito che è già presente in italiano, lo vedete scritto qua in alto sulla slide. La slide precedente era l'ultima slide del professore, ovviamente disponibile per gli interventi. E il sito viene aggiornato costantemente. And now I'm ready for your questions. Quindi sono pronto per le vostre domande. Se volete potete intervenire direttamente attivando i vostri microfoni e la videocamera se volete e domandare tutto. Ammazzatemi. Dolcemente. Dolcemente. Io ho anche la chat aperta, quindi se qualcuno invece vuole scrivere cerchiamo di leggere in tempo reale. Giulia mi senti? Sì, Roberto. Ciao. Senti, no, volevo fare una domanda a Gregor, possibilmente. Volevo chiedere di quanti giorni fai portare il BRUX checker. È sufficiente una notte o bisogna farlo portare più volte per cercare di capire queste interferenze? E eventualmente se più volte si fa fare più di un BRUX checker o più due o tre BRUX checker a distanza di tempo o sempre lo stesso BRUX checker che continua quindi ad abbradere sempre di più. Perché nella mia idea non è detto che magari uno mette BRUX checker una notte e quella notte lì BRUXa e che quindi riusciamo a vedere esattamente com'è la situazione. È un dubbio che mi è già assorto da un po' di tempo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 non è linea, sempre sullo stesso livello. È in alto e in alto. Quindi dobbiamo fare un'anamnesia con il paziente. A quale momento il paziente è più stressato o meno stressato? Vuoi tradurre? Per il professor, sì, grazie. Questa è una domanda molto importante. Tutto ciò che ha a che fare con la clinica del Brooks Checker è molto importante, dell'analisi del bruxismo importante. Intanto il professore dice che una notte è sufficiente. Ma noi sappiamo che l'attività di bruxismo non è sempre uguale, non rimane mai sullo stesso livello, ma ha fluttuazioni. Quindi la cosa più importante forse è un'anamnesia accurata e capire il paziente quali momenti di stress ha e quando stress avrà informazioni legate alla sua attività diurna e notturna e alla sua igiene del sonno più ancora che farlo portare più di una notte. Quindi, ciò che sappiamo? Prima di tutto, dovremmo chiedere il paziente se si è iniziato con i sintomi o se si è iniziato durante la notte con la dolce o la dolce o la dolce o la dolce o la dolce quindi farò questo genere di domande e se la risposta a queste domande è sì quindi sì mi sveglio con sintomi allora è indicato il brux checker fatto durante il sonno e poi andare avanti con altre domande per esempio quando c'è il massimo della sintomatologia è durante il weekend è il lunedì mattina quando è il momento in cui avverte di più i sintomi e prima che il paziente si usa questo brux checker durante una notte magari all'inizio della settimana c'è il massimo di questi sintomi non c'è alcool e bisogna chiedere al paziente per esempio di non bere per esempio il paziente che ci dice io ho la maggior parte dei miei sintomi i miei giorni peggiori sono all'inizio della settimana se c'è paziente prima di fare la registrazione non bere alcolici e non prendere i farmaci e poi sì allora possiamo valutare e esaminare bene l'attività di bruxismo se il paziente che al mattino si sveglia e non ha problemi un paziente sintomatico al mattino probabilmente non va valutato il suo bruxismo durante il sonno Può essere che magari se un paziente ha un forte russatore che tiene la bocca aperta, un respiratore orale, quindi non digrenerà di notte. Magari però è lo stesso paziente che ha invece sintomatologia durante la giornata poi. Allora per esempio un paziente come questo che invece magari di grigna di giorno è più indicato a fare indossare il Brooks Checker durante la giornata e magari quel paziente che quando parla o quando sta lavorando invoca al suo paziente ha la maggior parte della sua attività di bruxismo. Invece ricordo la domanda dovremmo ripetere più volte il Brooks Checker. Può essere indicato ma sono in quei casi in cui il paziente a dire io ho una grande fluttuazione dei sintomi durante la settimana per esempio. Allora ha senso andare a vedere quando è veramente il massimo dell'attività di digregnamento. Ma nella routine più quotidiana un Brooks Checker unico però capendo insomma se è da indossare durante il sonno o durante la veglia è sufficiente. Ok. Va bene. Grazie. Grazie. Grazie, Gregor. You're welcome. We're having a look at the chat and there's a question from Dr. Marco Boatta. We'll read it out to you. Good evening. How do you consider zone of pression due to clenching which have no big abrasions? And this is something I often find. And how do you look at these in your digital report system? Zones of pressure. This is still a tricky point. We cannot correlate in the moment big abrasion facets with big forces or small abrasion facets with small forces. We have no pressure measurement system in the Brooks Checker. Questo è un punto delicato nel senso che non c'è modo di discriminare tra una grande abrasione e una zona che ha subito una grande forza e quindi risulta anche lei abbrasa. Non c'è nessuna informazione riguardante la pressione nell'analisi del Brooks Checker sfortunatamente. So this would be a possibility to use the T-scan or the Oclusense from Bausch Dental here in Germany, T-scan from the United States. But the problem with these instruments, we cannot use them during the night. When we use it in the mouth and we tell the patient, please Brooks now. It's not a really proxing what we see in a sleeping patient maybe. This is an important question and we have to combine all the information with that and especially with condylografic tracing to see how much the joint is maybe loaded or unloaded during bruxing. Still a lot to do in occlusal diagnostics. C'è ancora molto da fare nella diagnosi occlusale, è un'ottima domanda questa. Ci sono le metodiche che magari conoscete, quindi il T-scan degli statunitensi o l'Oclusense della Bausch in Germania, che hanno la possibilità di studiare invece la pressione. Il problema è di queste metodiche che non si possono utilizzare la notte e che il bruxismo che si va a registrare quando si chiede al paziente di bruxare sul T-scan è un bruxismo di tipo, è un'artificio insomma. Quindi dobbiamo accettare che alcune cose vanno valutate combinando diversi mezzi di indagine e questo vuol dire anche quindi la condylografica, vedere magari quanto è caricata l'articolazione durante il grignamento, oltre al brux checker e altre metodiche. Giulia, I'm too stupid to open the chat, I don't know, but I have, you can do this, right? There are no more questions at the moment. Grazie, dottor Buatta, spero che la risposta sia sufficiente. Okay. No more questions. Grazie, dottor Buatta, spero che la risposta sia sufficiente. Ah, yeah, okay, this was the last one. So, I promised not... Eugenio, chiedi tu? You promised, prof? I promised not to talk too long. Il professore ha promesso di non parlare troppo lungo. No? Eugenio, chiudi tu. Bene, grazie, grazie professor Slavicek, grazie Gregor, grazie a voi tutti quanti per la partecipazione. Abbiamo avuto una nutrita presenza questa sera, abbiamo avvocato circa 80 partecipanti, quindi penso che sia stato un successo questa serata. e ringraziare il professor Gregor per la sua relazione, che è stata come sempre esaustiva e molto interessante. Potrei dire che forse questa potrebbe essere, considerando quello che vorranno fare i futuri presidenti, un ottimo mezzo per sentirsi ogni tanto, per scambiare delle opinioni e qualcosa di interessante. Credo che tocchi al presidente chiudere come si deve la serata e magari io faccio i miei auguri a tutti quanti, ma vorrei lasciare al presidente questo onore e questo onore di chiudere la serata. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie Eugenio, grazie Giulia, traduzione favolosa, grazie Carlotta che hai lavorato dietro le quinte per organizzare questa bellissima serata, grazie ancora Gregor, ti aspettiamo sempre in IG e aspettiamo tutti voi, spero nel 2021, che deve essere migliore e only in IG. Buon Natale e un saluto a tutti. Grazie a tutti. e per rilassare idee, sì? Professore, vi ringrazio a tutti, vi saluto e auguro buone feste in salute, rilassate con le vostre famiglie e speriamo di vederci presto l'anno prossimo. Grazie a tutti, ragazzi. Thank you. Auguri. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 ciao ciao ciao